a radio.it oggi parliamo di una tradizione padovana anzi riparliamo perché i ragazzi di unipapiro sono già passati a trovarci ma siamo contentissimi di averli qui anche oggi sono i paladini i custodi del di una delle più belle tradizioni che abbiamo qui a padova per il mondo universitario ciao cesare di unipapiro ribenvenuto oggi con noi c'è un altro ospite paolo marchesini ciao paolo benvenuto come stai bene tu sei qui ospite diciamo non sei di unipapiro strettamente detto però hai orbitato attorno alla galassia unipapiro perché cesare avete avuto questa idea siccome di gente che disegna ce n'è tantissima voi avete avete scelto di decidere qual era insomma di aprire un contest sì noi abbiamo deciso dopo un anno di attività in cui avevamo incontrato e promosso se vuoi sui nostri canali il lavoro di tanti ragazzi ragazze che fanno oggi papiristi abbiamo voluto chiudere un cerchio dopo un anno di attività e scegliere chi secondo noi per questo anno 2017 è il papirista dell'anno papirista top papirista top immagino che non sia stata una cosa semplice perché sfogliando anche la vostra pagina facebook che che poi vi mettiamo naturalmente nel podcast ce ne sono tanti voi ne segnalate periodicamente anche una cosa carina no avere fare una sorta di censimento immagino l'avrete presa questo contest sarà stata anche un po l'occasione per capire chi c'è chi quanti ne fanno insomma sono tantissimi noi li condividiamo direi settimanalmente e ne abbiamo condivisi direttamente sulla nostra pagina facebook una decina che sono quelli che ci hanno un po impressionato ma in realtà di ragazzi bravi ce ne sono molti di più siete diventati una galleria d'arte praticamente una sorta di galleria ci sono dei papiri che sono direi delle vere e proprie opere d'arte paolo i tuoi sono quelli che hanno vinto quindi sei stato scelto come miglior papirista di quest'anno ci fai vedere un po ci spieghi che tipo di papiri sono i tuoi lascia un po la parola a te perché sei sei insomma il più esperto direi di questa cosa vi ringrazio per avermi scelto e niente io è un po di anni che che faccio i papiri di laurea fa per dire ho iniziato qualche annetto fa quando ero anch'io studentello precisamente nel 2000 ok quindi ormai sono passati diversi anni e ai tempi andavo personalmente a incontrare le persone i ragazzi che mi commissionavano i papiri quindi una prima volta per perché mi davano le foto poi mi indicavano come fare la classica cosa che si fa no io vorrei questo vorrei una che lui è un tipo che va molto a cavallo non so robe del genere poi tornavo a casa preparavo il disegno e poi glielo portavo si dovevamo rincontrare per la consegna e questo è avvenuto per diversi anni almeno fino al 2005 2006 ok fino a quando si è proposta sempre più con prepotenza la caricatura digitale nel senso che il tutto avviene ormai tramite email no il disegno almeno i miei sono sempre fatti a mano però poi li scannerizzo e li preparo con un programma apposta e poi li invio tanto tu hai una tecnica particolare per comporre i papiri adesso magari secondo me possiamo anche vederli sono alcuni sono acefali però le test sono dall'altra parte ma non è cattiveria ho dovuto un po come dire vivisezionare il papiro originale la caricatura suddividere la testa il corpo e poi lo sfondo e gli oggetti attorno e tutto questo poi io lo assemblo al computer ok questo aggiungo che è la lavorazione che ci ha mostrato paolo è uno dei motivi per cui l'abbiamo scelto come il top papirista proprio perché è molto interessante come è riuscito a così armonizzare la tecnica manuale le tecnologie mi sembra di parlare un po quando si va a degustare il vino capito c'è chi presenta il vino poi c'è anche il sommelier che spiega c'è questo c'è quell'altro passaggio senti la cosa più strana che ti hanno chiesto insomma ne avrei fatti tantissimi immagino non saprei neanche il numero però la cosa più strana che hai disegnato che hai detto mamma mia questo vogliono una cosa ormai strano non so più cosa sia ma non ce ne erano in particolare beh mi ricordo una volta che mi hanno chiesto una posa particolare che non riuscivo a interpretare praticamente c'era un ragazzo da mettere dentro a un'ape quindi immaginate chiuso in un'ape si vede solo la testa però volevano che sulla maglietta ci fosse una scritta e che poi si vedesse dal sedere che usciva scusate una bottiglia di birra insomma una cosa improponibile comunque dentro un'ape non è possibile ecco senti paolo invece il tuo primo papiro te lo ricordi io mi ricordo quando me l'hanno commissionato ma non mi ricordo il disegno ci ho pensato in questi giorni non mi ricordo precisamente il disegno mi ricordo che era una ragazza ed è stato commissionato da dei miei si diceva così un tempo colleghi di università si dice ancora è rimasto è rimasto e niente io ho dovuto preparare dall'oggi a domani questo disegno e da lì è nata poi la mia la tua passione e anche il tuo impegno che facceli vedere un po' magari proviamo a scorre lì perché sono veramente figli adesso si risalgono a qualche anno fa ovviamente non ho portato sono tutti fatti col carboncino che è un'altra cosa tipica qui di padova se vogliamo no quindi prima si fa il tratto e poi si e poi carboncino come come da tradizione ok sono molto fighi adesso ci dispiace perché stai vedendo il video ma vi diamo i contatti anche di paolo se volete perché dal vivo sono veramente i corpi sono veramente una roba da zombie però molto belli senti cose porno a manetta ovviamente certo ecco qua per esempio il classico pisellino c'è sempre sono un grande classico che poi io ho umanizzato adesso vi faccio vedere si diventa proprio un vero e proprio personaggio che tutti richiedono esplorando il corpo umano una cosa del genere poi c'è anche gina che qui non ho che però è la contro è la controparte è un altro personaggio un altro personaggio ho capito e senti paolo la cosa la caratteristica più importante che deve avere secondo te un papirista qual è magari un buon tratto oppure una buona interpretazione o un buon feeling col collega dell'università un po tutte queste cose ma forse comunque di base la passione volere farlo per per passione prima di tutto perché comunque è questo che poi ha spinto anche me a farlo per per tanti anni che figo e poi l'ha detto da una capra come me che non sa assolutamente disegnare ma ma la pena firma il suo nome tipo la x è molto molto bello staremo anche insomma ce ne sono parecchi poi sul tuo sito su facebook insomma si possono vedere quindi poi vi mettiamo anche i riferimenti per contattare paolo per vedere quello che fa cesare dobbiamo anche fare una al momento della cerimonia e propria c'è edoardo qua dalle retrovie che poi che lo vediamo che consegna la targa ufficiale di unipapia mostriamo in camera eccola qua papirista dell'anno 2017 e paolo marchesini bravo un applauso siamo in pochi però ok naturalmente oltre la targa c'è anche si sa che disegnare si si stanca anche ti viene un po sete ecco così molta sete e quindi abbiamo deciso di omaggiarti con questa cassa di birra con cui magari puoi brindare e festeggiare il premio ci sta ci sta ci sta di quante birre si bevono disegnando un papiro mediamente paolo io non bevo tantissimo però vabbè una ci sta ogni tanto volentieri la birra piace a tutti la birra piace a tutti inevitabile senti cesare io so che come unipapiro questo è un primo step di varie cose che farete che state continuando a fare assolutamente infatti per noi come ti ho detto non è un po un giro di bo a quest'anno di attività adesso partiranno molte di nuove iniziative legate al papiro al mondo del papiro dalla nostra partnership con wow che gli universitari conosceranno perché organizza delle belle feste che tra l'altro ha offerto il premio per il nostro papirista ma qui noi vogliamo anche così annunciare il fatto che parte da oggi online red bull papiro che ci vede come partner per quest'anno è un modo nuovo e divertente di farsi fare i papiri potete andare sul sito red bull googlare red bull papiro e si trovano le informazioni e una delle novità è che quest'anno vedrete appunto che potete caricare le descrizioni dei vostri amici e le migliori descrizioni anche quelle più divertenti diventeranno un papiro dall'anno prossimo il papirista dell'anno unipapiro entra nella squadra di disegnatori red bull e quindi da lì parte per un universo sconfinato quindi ci vediamo a metà maggio con con un evento che organizziamo tutti insieme e ci saranno i nostri papiri ci saranno i papiri di paolo anche e quindi sono grandi cose che bello mi piace che questa cosa è nata a parte sono ragazzi di padova e ci vogliamo bene per quello proprio perché una tradizione che va anche un po' oltre quella che è la goliardia era un po' anche lo spirito con cui è nata con il sito è nata la pagina è proprio il papiro che ci permettono di cazzeggiare e divertirci ma di trovare sempre invece stimoli nuovi perché ci sono artisti veramente capaci ed è un bel modo per raccontare padova l'università è un mondo che ci piace assolutamente sì assolutamente si vede qui grazie mille a paolo e complimenti ancora per il premio gasto e cesare ai ragazzi di unipapiro dopo vi mettiamo i riferimenti naturalmente beh sono sconvolto da questi disegni ciao